Un passaggio pedonale non visibile e pericoloso per l'incolumità dei pedoni che lo attraversano è la denuncia di Roberto Rigamonti dell'Associazione Arte e Cultura Veneta che chiede l'intervento del Comune di Venezia nella zona traffico limitato in pieno centro a Mestre. Fra Piazza Ferretto e Via Palazzo c'è una strada che si interseca. Praticamente non c'è una discontinuità di pavimentazione fra le due isole pedonali. L'altro giorno transitavo per caso, appunto per Via San Rocco, e una mamma con un bambino che passava da Piazza Ferretto a Via Palazzo con il telefonino non si è accorta che appunto questa è una strada, come si può ben vedere. Bisogna segnalarla molto meglio, nel senso o si fanno delle strisce pedonali più visibili oppure, linea di massima, un consiglio che posso dare io, un semaforo a richiesta. Rifare le strisce pedonali o installare dei semafori ridurrebbe il rischio di incidenti. Le richieste degli uffici competenti sono state fatte e aspettiamo, conclude Rigamonti, che adesso vengano presi i provvedimenti. Se possiamo fare un intervento, non penso che sia una cosa talmente gravosa, cioè prendere in mano questa situazione perché qui veramente un giorno o l'altro ci scappa, no il morto speriamo di no, ma il ferito senz'altro insomma.